Senta, sulla base della sua esperienza, insomma, che cosa ci aspetterà da qui a breve? Perché sappiamo che i metodi di pagamento internazionale sono stati per lo più bloccati, tranne quello che ci permette di comprare il metano in Russia, ma i prezzi salgono, cosa ci aspetta? Noi ci aspettiamo un'inflazione galoppante, come quella che non vorrei ricordare gli anni 70, però voglio dire, è una roba, ci auguriamo che non sia di quel tenore, ma è una roba che si assomiglierà. Certamente la Russia andrà in default, perché questo andrà, e credo è anche un personaggio così dittatoriale e un po' senza scrupoli come Putin, prima o poi dovrà ripensare anche lui la sua politica militare e di espansione. Perché temo la Russia, le persone in Russia, sia quelle che contano, ma quelle che contano di più, e sono la maggioranza delle persone, perché la maggioranza ha sempre un'importanza più significativa e non pochi oligarchi, e sarà contro di lui. Oggi non è contro di lui, ma fra dieci minuti lo sarà, quando comincerà a fare le code per il pane, per il caffè, per i beni di prima necessità. Quindi io confido, spero di non essere solo e soprattutto di non sbagliarmi, che questa aggressione rientrerà. Come rientrerà? Non lo so. Dal punto di vista economico, sicuramente le nostre aziende, come ha detto anche il Presidente Filippa, qualche giorno fa sulla stampa mi pare, pagano un costo molto elevato, in un momento dove hanno già pagato un costo dovuto alla crisi pandemica. Quindi due robine di questo tenore risiano davvero di azzerare quella ripresa e certamente c'è.